Oggi Roma è diventata multietnica, ci sono matriciani, abruzzesi, veneti, io sono Umbro, non sono un etnico qui a Roma. Che cucino, che faccio, che mangio, eh? Dove sei? Tu dai Egito? Lei non è andato mai in Egito? No, l'ho visto per cartolina. Gianfranco Bissani e Michela Rocco conducono... Dici porto io! Domenica alle 10 sulla 7.